Due, vai! Ciao bambine e bambine! Vi chiedete chi siamo perché non ci avete mai viste e per voi siamo persone nuove. Ma a settembre ci conosceremo e ci vedremo quasi tutti i giorni perché siamo le vostre maestre della scuola primaria. Eh sì, siamo tante! Adesso ci presentiamo. Io sono la maestra Terry. Ciao, io sono la maestra Patrizia e vi saluto in un modo speciale. Hello children! Chissà come mai uso queste parole. Lo scoprirete a settembre. Non vediamo l'ora di conoscervi. Ciao, io sono la maestra Angela e anch'io non vedo l'ora che arrivi settembre. Sappiamo che siete pronti per questa nuova avventura alla scuola primaria, ma anche che avete un po' di paura. E vorresti farci tante domande. Per saperlo dovrete aspettare ancora un po'. Ciao! Ciao! Io sono la maestra Viviana. Forse vi state chiedendo come mai ci sono tutti questi pesci rossi che guizzano in mezzo a noi. Adesso ve li presentiamo. Sono gli amici di un pesciolino speciale che si chiama guizzino e proprio come voi affronterà una nuova avventura. Anche lui è spaventato e non sa cosa lo aspetta. Ciao! Io sono la maestra Maria. Dovete sapere che il nostro pesciolino guizzino è stato molto coraggioso e ci ha insegnato una cosa importantissima, che insieme è più bello e uniti siamo più forti. Chissà come l'ha capito e che cosa significano queste frasi. Ciao! Ciao ciao! Io sono la maestra Maura. Cosa dite se ora vi facciamo conoscere guizzino e ci diamo poi appuntamento a settembre per conoscerci meglio? Mi raccomando! Ascoltate la storia e guardate bene le immagini. Chiedete poi un aiutino a mamma e papà per costruire il nostro pesciolino. Attenzione! Le istruzioni del tutorial vi aiuteranno. Ciao ciao!